Ora, questo va contro tutto l'insegnamento populare. La gente ti ha sempre detto, innanzitutto devi amare te stesso, prima di amare qualcuno. Qualunque sia il tuo processo emotivo, è solo pettegolezzo locale. Godi te lo sei, credito. Ma non credici. Un po' innamorato di te stesso, stai andando verso una condizione schizofrenica. Sadguru, ho assaporato molte volte un po' dell'oltre, ma rimango bloccato in molte piccole questioni insignificanti. Come posso superare questo e mantenere sempre l'equilibrio? Dunque, hai assaporato l'oltre. Ma ora, delle cose insignificanti ti legano ancora. Se lo hai assaporato per un momento, solo per un momento, c'è qualcosa. Oltre ciò che pensi e senti, se questa è diventata una cosa reale per te, anche per un momento, allora devi investire la tua vita in quella direzione. Sì, ci provo, ma cose insignificanti mi portano via. Quindi, ti stai un po' innamorando di te stesso. Ecco perché, anche se il sapore è dell'oltre, è da qualche parte sulla tua lingua, puoi comunque rimanere legato. Perché stai diventando una personalità un po' gonfiata. Sei un po' innamorato di te stesso. È sbagliato? niente di sbagliato. Si chiama solo follia. Perché l'amore è uno sforzo. L'amore è un anelito a includere qualcosa come una parte di te stesso. L'amore è un processo. L'amore è una possibilità in cui potresti diventare più ampio di chi sei. Potresti diventare più di ciò che sei. Per inclusione. se ti crogioli nel tuo amor proprio. Ora, questo va contro tutto l'insegnamento popolare. La gente ti ha sempre detto innanzitutto devi amare te stesso prima di amare qualcuno. Se non puoi amare te stesso, come puoi amare qualcuno? Se dici voglio amare me stesso, ora stai andando verso una condizione schizofrenica. Ora stai creando due in uno. Se vuoi assicurarti di non impazzire mai, il primo importante passo che devi compiere è elimina tutte le cose. divisioni. E vedi, questo è un individuo. Un individuo significa non può essere diviso ulteriormente. È indivisibile. Non puoi più dividerlo. Questa è una sola entità. Non puoi farne due. Se ne fai due, amo me stesso, ora stai andando verso la follia. Il primo passo è stato fatto. Se le situazioni di vita collaborano, ci arriverai rapidamente. se le situazioni di vita non creano quella situazione per te, potresti farcela entro livelli socialmente accettati di quella follia. il motivo per cui anche se il divino tocca la tua lingua, anche se il sapore del divino è lì sulla tua lingua, puoi comunque rimanere legato. È semplicemente amor proprio. È un passo sicuro, primo passo verso la follia. Che tu arrivi lì al livello da manicomio o che tu raggiunga solo il livello da ashram. È soggetto a molte cose. Ma questo successe a un uomo. voleva iscriversi in un'università. Vide un grande edificio ed entrò. Lì avevano dei moduli di iscrizione. Lui compilò tutto. Firmò e quando andò dal funzionario per consegnarlo per essere iscritto all'università il funzionario disse ma questo non è un'università è un manicomio. Allora l'uomo disse ma no volevo entrare all'università. Il funzionario disse no questo è un manicomio. Poi l'uomo pensò ho già compilato il mio modulo di iscrizione. Che differenza fa? Entrerò. Non fa tanta differenza. Entrerò nel manicomio. Che gran differenza c'è? Il funzionario fu d'accordo. Sì non c'è tanta differenza ma c'è una differenza. Qual è? Qui a meno che tu non mostri dei miglioramenti non ti lasceremo uscire. quindi Ashram è solo una parola sanscrita. Una parola inglese sarebbe troppo offensiva. Quindi Ashram. perché con il sapore del divino sulla tua lingua stai provando o hai la sciocchezza necessaria in te per innamorarti di qualcosa di così limitato che chiami me stesso. questo è un segno certo di follia. Questo è decisamente un segno certo di follia. Se non l'avessi mai assaporato allora questo è tutto ciò che conosci. Va bene perché non conosci niente di meglio. Quando il sapore del divino è ancora persistente e tu rimani legato con qualcosa di così limitato come la tua personalità questo è decisamente un segno di follia. Non c'è dubbio in merito. Se sei in uno stato di follia tale sei condannato. Persino un astrologo ti farà pagare metà prezzo perché quando il tuo destino è così condannato non c'è molto da prevedere sai è facile davvero è molto facile. ma tutto questo discorso non deprimerti. Dovrei essere un ottimista o un pessimista sul sentiero spirituale? Un ottimista un pessimista e un realista erano al tavolo della colazione. Un ottimista c'era una brocca chiusa voglio dire una ciotola un contenitore l'ottimista lo guardò e disse per favore passami la panna il pessimista lo guardò e disse per favore passami il latte il realista disse per favore passami la brocca quindi se sei un ottimista verrai ingannato se sei un pessimista verrai ingannato quindi quando sei giù io ti alzo quando sei su io ti abbasso perché voglio che tu sia un realista solo uno che è in contatto con la realtà crescerà gli altri gli ottimisti avranno allucinazioni i pessimisti si deprimeranno entrambi non andranno da nessuna parte devi essere realista hai volontà di vedere tutto così com'è niente esaltazione niente depressione solo così com'è importantissimo estremamente importante quindi quando ti vedo su butto acqua fredda su di te quando ti vedo giù accendo il fuoco in te non pensare che stia giocando con te cerco solo di portarti giù nella realtà vai da questa parte ti allontani se vai da questa parte ti allontani abbiamo bisogno di te nella realtà solo nella realtà cresci la crescita è possibile solo nella realtà è l'esistenziale che può trascendere anche la trascendenza psicologica qualunque cosa faccia è vuota la trascendenza è falsa nella sfera psicologica non esiste qualcosa come la trascendenza nella sfera psicologica della tua vita la trascendenza deve essere esistenziale perché è nell'esistenziale che il tuo processo essenziale di vita è radicato ciò che accade nella tua mente il tuo pensiero e le tue emozioni sono psicologici sono solo una piccola propagine della vita non è vita adesso potrebbe tenerti pienamente impegnato il tuo pensiero le tue emozioni potrebbero tenerti pienamente impegnato adesso ma è solo una piccola propagine della vita non è vita puoi pensare ciò che vuoi anche se dormi profondamente sei ancora vita in realtà sei più vita quando non c'è attività psicologica se hai conosciuto alcuni momenti di quello che chiami l'oltre quelli sono stati alcuni momenti in cui eri libero dalla sfera psicologica in quei pochi momenti di libertà dalla sfera psicologica sei più presente che mai anni di vita i pochi momenti in cui sei libero dal processo psicologico sono stati i momenti di presenza più significativi nella tua vita quindi quel piccolo assaggio che hai conosciuto devi investire la tua vita in quella direzione non in ciò che dicono i tuoi pensieri ciò che dicono le tue emozioni le tue emozioni i tuoi pensieri possono dire ciò che vogliono diranno una cosa oggi domattina cambieranno opinione sono proprio come il pettegolezzo locale continua a cambiare continua a cambiare ciò di cui le persone parlano oggi e ciò di cui parlano domani allo stesso modo nella tua mente qualunque sia il tuo processo di pensiero il tuo processo emotivo è solo pettegolezzo locale molto circoscritto a te goditelo se è piacevole ma non crederci se ti piacciono i pettegolezzi divertiti i pettegolezzi sono per l'intrattenimento non inizi il tuo processo spirituale sui pettegolezzi non inizi nulla che conti per davvero espettevoli se il sapore del divino è venuto a te allora vedrai l'intrattenimento non significa niente improvvisamente l'intrattenimento non significa niente di niente per te perché tutto l'intrattenimento sembra troppo stantio e ridicolo per uno che ha assaporato la cosa vera